Perfetto, registrazione partita, così anche i nostri amici di YouTube potranno godersi il debutto con commento E manca poco, 30 secondi Sono pronto ai flash spoiler perché tanto faranno vedere i video Bam 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 bam, subito Si sente? Mi sentite, sì Al massimo poi abbasso un pochino Ditemi i volumi se vanno bene, poi quando inizieranno a parlare, quando inizieranno a esserci cose Ok Ci siamo Vediamo un po' Oh, no È questo? È il video? Sì, guardatelo Questo ce l'hanno fatto vedere in anteprima ad Amsterdam È bellissimo Sto zitto Sto zitto È bellissimo È fatto veramente bene Ma che figli È bellissimo È bellissimo Che figli Quanto bello Eccoci Abbassunto È bellissimo Ok Guardateli Questo è il villaggio più grande Che è la città dei tre alberi Eccola qua Tre leggendari Scegli un tipo di creature Scegli un colore Aggiungi una monta di mano Di quel colore Pare al numero di creature Che controlli del tipo scelto Bella Uccellini Oddio ci sono le versioni stagionali Anche delle terre Non base Gli uccelli sono dei giustizieri Essenzialmente Due tre costate a volare Quando lui è un altro Cattore che controlli Con volare entra Metti un più uno Più uno Su una criatura che controlli Senza volare Lora aiutano Tutti gli altri animaletti Castral 4-5 costate a volare Quando uno Più uccelli che controlli Che non danno Combattimento Scegli uno Puoi mettere una carta Bird Dalla tua mano Dal cimitero In campo Con un segnino finale Metti un più uno Più uno Su ogni uccello Che controlli O pesca una carta Port E lì c'è la versione anime E questo è l'altro Showcase Che è bellissimo Quello Con legno Ok I topi sono gli alleati Più vicini agli uccelli 3-2 costa 3 Cautela Rapidità Valiant Ogni volta lui Diventa bersaglio Di una magia O abilità Che controlli Per la prima volta Ogni turno Metti un più uno Più uno Su di lui È mentor Praticamente Non mentor È quella di Teros Offspring Puoi pagare Due addizionali Mentre lanci questa magia Se lo fai Quando questa creatura Entra Crea una versione Copia 1-1 Di essa E quando quella creatura Diventa bersaglio Per la prima volta Ogni turno I topi che controlli Prendono un più uno 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 Quattro quattro costo quattro Con Offspring 2 Quando attacchi Scegli uno Crea un coniglio 1-1 Tappata attaccante E poi non ho visto I conigli sono anche Comunità Focusti Anche a essere Talenti Chefs E farmaci Che Provano Food Per la prima volta E si concentrano Sulla comunità Ovviamente Che non significa Che non potrebbero Non potrebbero Esatto Eroic Ma anche con le abilità Valiant Ah Finneas 2-2 Costo 2 Cautela raggiungere Ogni po' Volta attacca Mette un segno Più uno Su ogni altra Cattore che controlli Che ha una pedina O un coniglio Poi Se una cattore Controlli Ha forza Se le cattore Controlli Hanno forza totale 10 o più Pesca una carta Quest caller 2-3 Costo 2 Ogni volta Uno più altre Conigli Pipistrelli Uccelli O topi Che controlli Entrano Scraia uno E gli altri Prendono più o più uno Quindi un lord Un po' più ampio Gift A tappe Fish Puoi promettere A un avversario Un dono Mentre lanci Questa magia Se lo fai Crea un pesce 1-1 Blu tappato Prima Dei suoi altri Effetti L'avversario Ovviamente Crea il pesce Esilia una creatura Non token Se il dono Non è stato promesso Fatto andare Quella creatura Sul campo di battaglia Sotto il controllo Con un più uno Più uno Ah ok Quindi se dai il dono Dà effetti diversi Pipistrelli Offspring è Kicker Che crea un token Essenzialmente Life e morte E ovviamente Dio e niente Star Sear Mentor Tra 5 costo 5 Volare a cautela All'inizio della tua Endstep Sei guadagnato O perso vita In questo turno Un avversario Perde tre punti vita A meno che Non sacrifichi Un permanente Non terra O scarti una carta Classico effetto Bianco nero Procioni Muera 2-4 costo 3 All'inizio della tua Prima main phase Aggiungi rosso O verde Per ogni procione E quando Expand 4 Guadagni 3 punti vita Per expandere 4 Mentre spendi Il tuo Quarto mana Totale Per lanciare Magie Durante un turno Ok Quindi Se spendi Tanto mana In un turno Sblocchi cose Sblocchi effetti Ok Raccolgono I rifiuti Giustamente I procioni Sì è molto Sì Sono d'accordo Barth Allora Lucertole Fireglass Mentor 2-1 costo 2 All'inizio della tua Seconda main phase Se un avversario Ha perso punti vita In questo turno Esilia le prime Due carte Del tuo gamorre Scegli ne una E fino alla fine Un turno Puoi giocare Con la carta Carino Sono dei vetrai Ok Scoiattoli Camilla The Seedmiser Coletta Quella di prima Ratti Tra te Questa tre Minacciare Con Soglia Torna Soglia Quando entra Se hai set Più carte Nel cimitero Eccetera Soglia è Avere set Più carte Nel cimitero È una meccanica Da tormento Sì Non ci sono Umani In questo set Ricky Bond Alania Tra cico Questo cico Dico a volta Lancia una magia Sei la prima Magia istantanea O la prima Stregoneria O la prima Lontra Diversa da Alania Che hai lanciato Puoi far pescare Una carta A un avversario Se lo fai Copia quella magia Puoi scegliere Noi bersagli E le rane Ok sono un po' Gli auguri Diciamo così 4-4 Con raggiungere A costo 3 Esiglia un altro Creatore che controlli Poi rimette a scampo Di battaglia Sotto tutto controllo Con un segno P1-1 Un blink Blu-verde Ha Glarb 2-4 Tricolor Con tocco letale Puoi guardare La prima carta Del tuo grimorio Puoi giocare a terra E lanciare magie Con costo 4 O più E poi puoi sorvegliare Ok Calamity Beast Maha 6-5 Costo 5 Volare Travolgere Ward Scarta una carta E le creature Controllate I tuoi avversari Hanno Costituzione Base 1 Quindi è il mono nero E Maha Igra Wow 6-6 Costo 5 Ward Sacrifica un cibo Le altre creature Sono artefatti Cibo In aggiunta ai loro Altri tipi E ogni qualvolta Un cibo viene messo In un cimitero Dal campo di battaglia Metti due segni P1-1 su Igra Belli Così Tutti i tre cibi Non è nessun aiutato Il grande herero Mabel Forma una parte Di avventure Per proteggere Valle Contra le Calamity Beast Aided By the now Transformed Ral Zara Oh Ral Grande Ogni volta Lancia una non creatura Metti un segnino Fedeltà Più uno Crea una Lontra 1-1 Con Prowess Meno 3 Pesca 3 carte Poi scarta 2 carte Meno 10 Pesca 3 carte E' un emblema Con gli istantanei stregoneri Che lanci hanno tempesta Che bella questa Guardate le zampotte Un ciclo Ok Season of Weaving Scegli fino A 5 Pos Ah ok Puoi scegliere lo stesso monte De una volta Ah ok Puoi combinare Le pose Perché Ogni mod Ogni modalità Ha il suo costo E ci sono le saghe Talenti Ah no I talenti Sono tornati i talenti Cioè Tornate le classi Talento dell'artista Quando lancia una creatura Non lo fate in tempo Ok Tornate le classi Da D&D E poi c'è quella roba nuova Delle zampe Delle impronte Belle le terre Così Non è i guerriori Che rendono 3 tre città Ma Ma I piccoli Che Carri Di Dio Eh ma Ablandander Quello là Che a Ward Sacrifica Il food Rendeva Tutte le altre creature Dei food Ah attenzione I commander Bello 3 3 Durante il tuo turno Ogni artefatto Non creatura E incantismo Non aura Che controlli Con costo 4 o più È un elementare 4 4 In aggiunta Di su altri tipi È indistruttibile Rapidità E quando fa Danno a combattimento Non ho visto Zinnia Prendi più X più 0 Dove X È il numero Di altre creature Controlli Con forza Base 1 E le creature Che lanci Anno Offspring 2 Bella Forte Hazel Parla due vite Tappa X Token Stappati i controlli E aggiungi X Man in qualsiasi combinazione All'inizio della tua Endstep Che è una copia Di una pedina E controlli 1-5 Costo 4 Cautela Ogni volta lanci Una magia Un avversario Pesca una carta Metti un più Uno più Uno su una Cattroversaglio Volare fino a fine Il turno Se è la seconda Volare fino a fine Non ho visto Eccole qua Può essere trovata Nei mazzi commander Quindi tammiglio Un coniglio Giustamente Ok quindi queste Sono le versioni What if I planeswalker Eccolo qua Questo l'avevano Già fatto vedere Jace the Mind Sculptor Ah Bella Questo è il special guest Questo è il special guest Bello che sia Lo scheletro Di un pesce Three Tree City And all the creatures Valley You have your chance Soon You can play early At your local game store For pre release Starting the weekend Ok Adesso finisce il video Poi c'è la Live dove vanno Un po' più calmi Ah Buy a box Flubs the fool Puoi giocare Una terra tradizionale Spero ce le facciano vedere Con calma Adesso Ora online At magic.wizards.com Until then We hope you'll come visit us soon Brave King Duo Da Helga Che è l'altra protagonista Della storia Tiny Tales Big Adventure Sì a livello artistico È una cosa Stupenda Bloom Barrow Veramente figo Ok Adesso inizia la live Con il nostro caro Blake Eccolo qua È bassissimo Perché è sempre bassissimo Lo alzo un po' Ian Duke Poverino Ha una reazione allergica Ok Adesso ci spieghiamo Un po' di più Le cose Lui è quello che ha curato La parte Teorica Meccanica Del setta Lui si è concentrato sul limited E standard Ok Aspetta a vedere Così leggo Bene Leggiatore controlli Prendo più 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 Oh mio dio La pedina Quanto è bella È piccolissimo È bellissimo Ok Ok L'ha detto È kicker Like Meccanica Sono consapevoli Ok C'è molto spesso Il fatto di avere La pedina Essenzialmente Le due creature Saranno sinergiche Proprio già Tra loro Cioè Quindi avere due copie Ovviamente Aiuterà Io non capisco Perché invece di scrivere Tra parentesi Il costo di mana E questo Non lo mettano Direttamente in alto Come Come lo fanno Di solito Allora Un opossum Tender wild guide Due due costo due Con offspring Ah È un Umana d'orca Tappa Aggiungi umana Di qualsiasi colore Oppure tappa Metti un segno Pino pino Su questa creatura Ma è bellissimo Il cucciolino Ma sono bellissimi Li voglio Tutti Li voglio tutti Kitnap Allora Incantissimo Aura A questo quattro Dona una carta Puoi promettere All'avversario Un dono Mentre la scuola Se lo fai Quando entra Loro pescano Una carta Ok Quindi Se decidiamo Di fare il dono Entra E l'avversario Pesca una carta Incanta la creatura Quando entra Tappa la creatura Incantata Se non è stato Promesso il dono Metti tre segnalini Stordimento Sulla carta E tu controlli La creatura Incantata Ok Quindi è Non ti do niente In cambio Mi prendo la tua Creatura Ma è tappata E devo aspettare Tre turni Per stapparla Oppure ti do In cambio Una carta Però io mi prendo La tua creatura E la posso già usare È già stappata Cioè Diciamo Non devo aspettare Più turni Per stapparla Secondo me Eh no Barts Anche questo Stagonia costo due Regala una carta Distruggi un artefatto Un incantesimo Se non è stato Dato il dono Invece distruggi Ah scusate Se è stato Dato il dono Distruggi invece Due artefatti Incantesimo Sì essenzialmente Do qualcosa in cambio A un avversario Se lo faccio La carta è più potente Molto forti In group hug Queste carte Sono fortissime In group hug In commander Ok Wondertail Mentor Due due costitue Bardo Procione Ogni qualvolta Spend di 4 Metti o c'è Nopino più Nosso di lui E poi lui Tappa e aggiunge Rosso o verde Quindi i procioni Saranno basati Sul fatto di aggiungere Mana alla riserva Molto carina Come cosa Ok La maggior parte Delle carte Avrà Expend 4 Ci saranno Altre carte Con numeri diversi Ma La 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 Grande Maggioranza Sarà Sul 4 Ok Questo non l'avevo Fatto in tempo A finire di leggerlo Quindi quando Spendiamo 4 Guadagniamo 3 punti vita Quando spendiamo 8 Esiliamo le prime Due carte Del grimorio E fino al fine Del prossimo turno Possiamo giocarle Molto 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 Forte Cioè Più mana Spendiamo Più Bonus Abbiamo E Ricky Grazie mille Della sub Gentilissimo Ok Dove si trova La versione anime Ok Sono Esclusive Collector Questo sia la prima volta Che un trattamento così Tra virgolette Semplice Sia esclusivo Delle collector Nel senso Con l'art Cioè La stessa art Non penso Possiamo trovarla Nelle buste normali Ok Forage Quindi 2-2 Costo 2 Aggiungi verde Oppure Tappa Forage Aggiungi 2 mana In qualsiasi combinazione Di colori Oppure Paghiamo 4 tappa Passare siano i gamori Per una carta Scoiattolo Rivedela Aggiungela Alla mano E Ecco Cercava carte Per scoiattoli Direi che questa È un'ottima carta Per un mazzo Scoiattolo Quindi Gli scoiattoli Si baseranno molto Sia su creare Sfruttare cibi Sia sul Riempire il cimitero E poi sfruttare Le carte nel cimitero Con Forage Osteomante 2-2 Costo 2 Contocco letale Tappa Fino alla fine del turno Puoi lanciare Magie e creature Dal tuo cimitero Ah Foraggiando Adesso non mi viene in mente Una traduzione Più corretta Foraggiando In aggiunta Oltre a pagare I loro costi Se lanci una magia In questo modo Quella creatura Entra con un segnalino Finale Carina Questa è una sorta di Apprendista Necromante Variante di Apprendista Necromante Ok Questa versione Showcase Invece si trova Anche nelle Playbooster Ok Ci sarà l'articolo Ovviamente Che spiegherà Tutte le cose Ok Le classi Che bello Ma un riccio E un riccino Quindi quando entra Questa creatura Una creatura Versaglio che controlli Fa danno pari Alla sua forza A una creatura Che non controlli Poi paghiamo due Va a livello due Ogni volta attacchi Una creatura Attaccante Versaglio Per dobbiamo Pizzare Trample E pagando Quattro Va a livello tre All'inizio della Twin Step Se controlli Una creatura Questa Quanto più pesca Quindi queste classi Sono già Comparse Appunto Nel set Di D&D E essenzialmente E essenzialmente È un incantesimo Che ha L'effetto Quello più in alto Ce l'ha sempre Quindi in questo caso È quando entra Poi pagando Sblocchiamo I livelli successivi Una volta Sbloccato Il livello successivo Poi rimane Come effetto Dell'incantesimo Ovviamente Quindi una volta Che noi abbiamo Due mana Sblocchiamo Il livello due Del talento Poi Finché è in campo Ogni qualvolta Attaccheremo Darà più 1 più 0 E travolgere Quando sbloccheremo Anche il livello tre Farà entrambe le cose Ok Questo è un ciclo Di mitiche E saranno Le uniche carte Che useranno Questo simbolo Delle zampe Quindi la stagione E saranno Tutte stagione Stagione della perdita In questo caso Quindi stagione della costa 5 nera Scegli fino Scegli un qualsiasi numero Di modalità Che valgono Fino A un massimo Di 5 Zampe E puoi scegliere La stessa modalità Più di una volta E una zampa Ogni giocatore Sceglie una creatura Due zampe Pesca una carta Per ogni creatura Che controllavi Che è morta In questo turno Tre zampe Ogni avversario Perde x punti vita Dove x è il numero Di carte e creatura Nel tuo cimitero È una Secondo me È molto simile A spree Di thunder junction Solo che Invece che scegliere Come pagare La magia Decidi te Come gestirti Le modalità Ed è bello Perché Ovviamente È chiaro Che ciascuno Di questi effetti Alcuni Sono insomma Più forti Di altri Ed è bello Che abbiano Dato un peso Ai vari effetti Con questo Costo In zampe Ok Ha detto che Sono stati Molto difficili Da creare Come design Perché hanno Molte variabili Però Ha detto Per la flessibilità Che portavano Hanno Diciamo Hanno voluto Sforzarsi Diciamo In modo da avere Queste carte Con questa nuova Diciamo Questo effetto Ok C'è la Stagione Del coraggioso Anche questo Costa 5 Possiamo scegliere Per un massimo Di 5 zampe E una zampa Crea un tesoro Tappato 2 zampe Esigliare Prime 2 carte Del tuo grimorio Fino alla fine Del tuo prossimo Turno Puoi giocarle 3 zampe Fino alla fine Del tuo prossimo Turno Ogni volta Lanci una magia La stagione La stagione Of the bold Infrige due danni A un massimo Di una cattura Versa Sì Questo è molto figo Perché ti da Ti può dare il mana Per poi lanciare Le magie Nel turno successivo Ti può dare più carte Da lanciare Nel turno successivo Ti può dare il pay off Per lanciare le carte Nel turno successivo È figo Ok Dice che si stanno a livello di design Spostando molto di più Sul fatto di creare tesori tappati Dato che abbiamo visto Insomma Quanto sono forti I tesori stappati E quindi in futuro Diciamo che Si concentreranno A far creare i tesori tappati E si stanno a livello di creare i tesori tappati E si stanno a livello di creare i tesori tappati Facciamo i tesori tappati Che aggiungono due mana Facciamo i tesori tappati Che aggiungono due mana Per esempio In white blue We have birds In red black We have lizards E so on and so forth We'll go through all of them But the important thing to know Is If you're drafting And you just choose A bunch of creatures Of the same creature type They will have A mechanical identity And your deck Will come together In a coherent way Vice versa If you pick a color pair And you're doing The mechanical thing there You'll end up with A lot of creatures Of the same type So it feels Like it's in lockstep Ok hanno fatto in modo Che la Diciamo La sinergia meccanica Non sia solamente Per il tipo di creatura Ma anche proprio Per l'identità meccanica Che hanno voluto dare Al tipo di creatura Allora Allora Volare Un Rise Cleric 2-3 Costo 3 Mana ibrido E ogni volta Attacca Guadagnare un punto di vita Ok A livello meccanico I pipistrelli Ci premieranno Sia per aver guadagnato Punti vita In un turno Sia per aver perso Punti vita In un turno Che appunto Il bianco E il nero Ok Si effettivamente è la prima volta Che uniscono A livello meccanico Il pagare E il guadagnare Punti vita Nello stesso Nella stessa Cosa Ok Ci sono 10 comuni Ibride Che aiutano un pochino A capire effettivamente Quel bicolor Cosa fanno Ma in realtà Servono anche magari Per essere giocati In Altri archetipi Che non sono necessariamente Del loro tipo di creatura Ok Ratti Bella Restart Trattissimo 2-5 Costo 4 Blu-nero Con soglia Fintanto che ci sono 7 o più carte Nel tuo cimitero Lui perde più 3-0 Quindi metta un 5-5 E a costo 3 Di cui Un ibrido Blu-nero Sorveglia 1 Tranquillissimo Sono comune Certo ci sono Ok Shoreline Looter Far avuto ratto 1-1 Costo 2 Non può essere bloccato E con soglia Ogni qualvolta In fece danno Combattimento Un giocatore Pesca una carta Mi Forte Molto forte Le lontre Le lontre Un piottiglio Poi quei tante Però è fia 2-2 2-2 costo 3 Ogni qualvolta Lancia una magia Non creatura Metti un segno 1-1 Bellissima 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 Sì esatto Il prowess 2.0 Che dice Non creatura Cioè che dà Scusate che dà Il segnalino Invece che il Più 1-1 Temporaneo Hai già il prowess Di base Dice non creatura Quindi sarà un Archetipo più Control Oh mio dio È bellissima Un 1-1 costo 2 Con rapidità Prodezza E sconta Agli istanti Le sorceri di 1 Ok Goblin Electromancer Sotto steroidi Praticamente Ok Rosso nero Cinderling Cinderling Cutthroat 3-2 costo 3 Intra con un segnalino P1-1 Se un avversario Ha perso punto di vita In questo turno E ha costo 2 Di cui un ibrido Rosso nero A minacciare Fino a fine del turno Sì è vero È tipo sete di sangue Se un avversario Ha perso punto di vita So like some of these We're getting a look We're going through The archetypes And it seems to me Like some of them Are built to be Some of the archetypes Are built to be A little bit more Closely associated So like we look at The black-white common Which it attacks It makes them lose Or you gain a life But their abilities To lose life The lizards care About losing life Are there any Color pairs That are more Intentionally Ok hanno detto Che alcuni colori Alcune coppie di colori Saranno diciamo Saranno sinergiche Con le loro meccaniche Quindi si potrà fare Un tricolor Per esempio Blu, verde e nero Hanno tutte meccaniche Che hanno a che fare Col cimitero E quindi Si può Diciamo Hanno una sinergia Anche tra di loro Si era un uncommon Quelli di più La lontra Scoiatti Oh mio dio Corpseberry 2-3 costo 3 All'inizio del combattimento Annetto turno Puoi Foraggiare E ogni qualvolta Foraggi Metti un segno P1-1 sul coltiveto Allora così a naso Mi sembra che Foraggiare Sia incredibilmente Più forte Sacrificando solo il cibo Poi bisogna vedere Quanto potenziale Hanno gli scoiattoli Di riempirsi Il cimitero Ah ok Mi ha appena risposto Ho detto che Diciamo In base a come draft Ci sono alcune carte Che possono portarti Di più A concertare sui cibi O di più A fare self meal Quindi In entrambi i casi Sarà efficiente Cash grab Cash grab Dio mio Istantanio costo 2 Macina 4 Ecco perfetto Puoi mettere una carta permanente Tra di esse Macinata in questo modo Nella tua mano Se controlli un scoiattolo O hai ripreso in mano Uno scoiattolo In questo modo Crea un food Ecco Questa è una carta Fortissima Perché è fortissima Per foraggiare In entrambi i casi Perché foraggiare Vuol dire Tre carte al cimitero O un food Questa Se hai Se prendi lo scoiattolo Hai tre carte al cimitero E il food Quindi è molto forte Quella Quella pedina food Mi sta facendo venire Fame Comunque Quelle tortine New Barks Salve Salve Grazie mille Mazzo Da 76 carte In draft Per riempire il cimitero Valley Rotcaller 1-3 costo 2 Merciare Ogni volta attacca Ogni avversario Perde x punti vita Tu guadagni x punti vita Dove x È il numero di Scoiattoli Pipistalli Lucertole E ratti Quindi tutte le Tipi di creatura Con il nero Ah ok Ha detto Praticamente Per fare in modo Ok ha detto Dato che molti Di questi tipi di creatura È la prima volta Che i magic Vengono Sfruttati A livello Meccanico Hanno sentito Il bisogno Di creare Alcune carte Che comprendessero Diciamo anche Altri tipi di creatura Per i loro effetti Così che fossero Effettivamente Efficienti In draft E dare E dare più potenza Diciamo A quei tipi di creatura Che non sono Storicamente Supportati Stato bello Che nell'art Ci siano Gli altri tipi di creatura Fighissimo Topini Tra 4 costo 4 Con Valiant Quando Mentre avversario De la maggiore Di un'abilità Per la prima volta Prende più o più zero E attacco improvviso Profettizza uno Valiant Che è una meccanica E' una meccanica O una meccanica Tanto è incredibile L'art Che sembra una foto Sembra una foto Che tratta di capacità Quindi funziona Con equipamenti E attività Di altre creature Ma funziona solo Una volta per turno Quindi È più Per avere Un po' di Diferenti Valiant Creature E poi Tratta di Tutti In Valiant Inoltre Che Tipico Valiant Che È più Per Un po' di 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 Ma salve Ma Come si fa Dimenticare Del debutto Degli animaletti Buonasera Buonasera Come sono Stavo Bella Junkblade 4-5 Cosa 5 Travolgere Quando spendi 4 Prende 2 Più 1 Fino a fine Un turno Entra un 6-6 Quindi rosso verde Ramp Essenzialmente Perché i Procioni Sono un po' Più Grossi Esitato Come dice lui La cosa figa Di Xpand È che puoi Usarlo Sia Se hai Uno stile di gioco In cui lanci Un ciccione A turno Ma anche se Lanci tante cose Piccole Perché lui Conta il mana Totale Speso nel turno Ok Xpand funziona Solo con le magie Non con le abilità Sì puoi dirlo Per una volta Possiamo dire Che è tutto bello Sì Conigli Voglio quella pedina È ciccionissima È bellissima 3-2 costa 5 E quando entra Crei due pedine Conigli Ma è stupendo È stupendo È ciccio Ha i guanciotti Ha le guanciotte Ma è bellissimo Ok Questo avevamo fatto Un po' a leggerlo Una carta che ha Il flavor text Nella showcase E non nella normale È un po' a leggerlo È un po' a leggerlo È un po' a leggerlo Ok Il ciclo di leggendari Lavorerà ovviamente bene A livello meccanico Ma non volevano Renderle troppo strette Solo sul tipo di creatura Ma renderlo un po' più generico Hop to it Stregoneria Costo 3 Crea 3 Conigli 1-1 È il Ordling Outburst Dei conigli Profeita dello stagno Un 1 costo 2 Che quando entra Pesca una carta Ok 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 quindi La meccanica Delle rane È proprio Il blink Quindi ci saranno Un sacco di rane Con Etb Forti E questo Diciamo che Parleranno dell'entra Invece che dell'inter In campo di battaglia E' qualcosa che stiamo facendo A continuare Con i nostri templati È che buona sera Buona sera Sempre stiamo pensando A nostri regolini e templati E le parole che Vanno nelle nostre cartole E tentando stream Streamline E farlo E farlo A better Experienzio Per i nostri Poi Quindi Tiamo Tiamo Non Stare In In L'interno In L'interno 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 Poi 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 Natural L'interno Ovviamente è dovuto alla necessità di semplificare Uccelli Seedpod squire Tra 3 costo 4 Volare Ogni volta attacca è una cattura che controlli senza volare Prende più uno più uno fino a fine autunno Quindi gli uccelli vogliono lavorare con creature senza volare E questo è anche riflettivo di alcuni elementi creativi di Bloomboro Che gli uccelli sono molto legali buoni E quindi aiutano gli altri popoli E questo anche a livello meccanico È rappresentato dal fatto che potenziano Comunque fanno effetti con le creature senza volare Oh mio Dio 1-3 costo 3 Volare, doppio attacco cautela BAM No, no, non ho fatto Hanno fatto vedere solo i comandanti Per ora C'è proprio dei mazzi commander Del simbolo Ho detto che si sono concentrate a livello di archetipi che le carte multicolor Siano più incentrate su tipo di creatura O quello che vogliono fare Insomma gli archetipi Mentre le carte monocolor Possono eventualmente alcune adattarsi anche ad altri archetipi Che come per esempio L'uccellino lì con doppio attacco e tutto È in realtà anche molto forte nel mazzo topi Perché il mazzo topi ha tutti i combat trick E ovviamente avere un volare cautela a doppio attacco Su cui puoi buttarli sopra dei combat trick è molto forte Capesk Grazie mille per essere passato Ci vediamo Ci vediamo prossimamente Ci vediamo Ci vediamo C'è la calamità E loro sono appunto, sono essenzialmente degli animali elementali che devastano tutto quando passano. Allora, li sorprende al nostro previso di Calamity Beast. Besa! 4-5 costo 4. Quando entra, crea una pedina tesoro se un avversario contona la peterra di te. Guadagni 4 punti vita se un avversario ha più punti vita di te. Crea 2 pesci 1-1 blu se un avversario ha più creature di te. e pesca una carta se un avversario ha più carte in mano di te è il catch up supremo la pedina pesce importantissima importantissima la pedina pesce posso dire che non mi sembra fortissimo nel senso controlla tantissime cose è ok però questa l'abbiamo vista questa è molto forte il pesce azzurro fa bene questo è forte in limite è veramente forte questo showcase è specifico per le bestie della calamità e si trovano dappertutto ok queste si possono trovare come promo FNM diciamo allora abbiamo Fel distrugge una creatura di bersaglio costo due stregoneria però wear down l'abbiamo già visto la lontra l'abbiamo già vista ok il colpo dell'artiglio è una feed the swarm più scarsa ma che non ti fa perdere punti vita dove è rosso dove è rosso? eh sì Elena ha questo ha queste vibe ok ci sono i planeswalker bloombarrow bloombarrow dove si trovano? ok dove si trovano? qual'è la loro legality e questo tipo di cosa? sì quindi questo trattamento come hai detto sono reimagined pre-existing magic cards quindi sono tutte ristampe non sono standard legal quindi classico e sono disponibili in både foil e non foil ma queste sono solo in collector booster specificamente ah si trovano solo nelle collector vediamo che questi sono solo nel collector meh e poi c'è un card e come puoi vedere sarà in un commander as well chatterfang bello ah perché c'è anche nel mazzo commander quindi c'è lo spoilerato che nel mazzo commander scoiattoli c'è chatterfang bella ristampa bravi oddio Nissa rana fa molto ridere l'art normale è molto più bella l'anime qua è molto più bella l'anime è nel mazzo scoiattolo nel mazzo scoiattolo sicuramente Rick chatterfang è tra l'altro è l'unico mazzo verde nero dei quattro quindi è per forza lì bella scoiattola no perché chatterfang ha l'abilità che costa nero quindi come color identity è per forza verde nero Rick bellissima bellissima ah ok ok no Nissa non credo sarà nel mazzo non credo sarà nei mazzi commander ok queste sono le terre base tutte nelle loro stagioni ah che bello che c'è anche l'animaletto ah ok no non ha senso Blake che alcune stagioni compaiano di meno non ha assolutamente senso però vabbè apparentemente le stagioni fredde si troveranno un po' di meno rispetto a le stagioni calde come percentuali ah restampa di runaway together che carino libo e pulla nessuno si scomodò a cercare libo e pulla perché tutti sapevano che non volevano essere trovati una lontrina una ranocchia una ranocchia oddio posto 1 seconda re un avversario esiglia una carta dalla sua mano se questa magia è stata lanciata da un cimitero pesca una carta e ha flashback a questo 5 ci sono solo due carte con flashback in tutto il set perché appunto è una meccanica flashback è una meccanica che hanno deciso essere decidua termine italiano incredibilmente non usato che però ogni tanto possono tirarla fuori se serve giustamente il blu nero è la meccanica di soglia quindi ci sta ripel calamity istantano costo 2 distoggi una creatura con forza 4 più ok vogliono assicurarsi che ci fossero abbastanza removal efficaci per le calamity beast appunto dato che nelle play booster ora è possibile trovare più raro quindi potrebbe essere un po' più facile che la gente riesca a trovare una calamity beast vabbè questo l'avevamo già visti qua mi piace molto che il simbolo normale il simbolo commander siano completamente diversi che non sia il simbolo del set con lo scudo o cose così molto bello adesso fanno un po' di Q&A qualcuno dice ditemi che c'è un sorin pipistrello creare set di magic non è stressante lo dice Ian che non ha per nulla dermatite da stress su tutto il corpo anche ha detto che dovrebbe esserci abbastanza mana fix per eventualmente se si sceglie fare tricolor o comunque lo splash di un colore ok abbiamo chiarificato che le zampe non sono una risorsa che devi accumulare tipo l'energy ma è una cosa che serve soltanto per l'effetto della carta ok dice che quando per i doni ovviamente tu fai la scelta nel momento in cui lancia il poi se la magia per qualsiasi motivo non si risolve non è che l'avversario riceve comunque il dono semplicemente essendo parte della risoluzione anche il dono la magia non fa più niente ok gli hanno chiesto che animale diventerebbero sublimbolo tutti vogliono essere una lontana devono calcolare la questione delle di cosa scrivere sulle carte essenzialmente c'è sempre un tira e molla tra le parole che possiamo usare dentro il textbox la semplificazione degli effetti ma anche dare qualcosa di figo ai giocatori ovviamente sì le storie su Bloomberg sono già uscite tutte c'è anche la versione audio che ho sfruttato proprio senza vergogna altrimenti mi addormento a leggere e la storia di Bloomberg arriverà anche su questi canali in italiano ho quasi finito la versione di Thunder Junction dopo si andrà si andrà a fare le letture dopo mi metto subito su Bloomberg una volta finito Thunder Junction ok questa è una cosa che dicevo anche prima che oltre ai dieci tipi di creature principali ci saranno tanti altri tipi di creature animaleschi che loro sfruttano come cameo la settimana prossima parleranno degli stili artistici durante la loro live andiamo se ok quindi la delista è stata completamente cassata a favore degli special guest bravi perché fare la delista come la facevano loro ok Offspring non costa sempre due anche se tutte le carte che abbiamo visto finora costano due come Offspring però non tutte is Offspring multi-kicker so this is a good clarification you pay it once, twice you can only pay it once ok Offspring si paga solo una volta quindi è proprio kicker ok are there going to be a lot of food making spells? yeah there's definitely a good amount of food in the set it's both a great flavor fit in terms of the pastoral environment and then also plays into the squirrel mechanic specifically one thing we try to do is give you other things to do with your food rather than just sacrificing it to gain life just because that can kind of tend to inflate life totals and make limited games go longer so you'll see lots of things to do with food in addition to the food ok stanno un sacco di cose da fare con i cibi ok this is a good question for you how do you balance the power of the set with the fact that most of the creatures are small? yeah yeah so for limited the raccoons tend to be on the bigger side so it helps give them a clear identity and then for constructed it's actually kind of nice because cheaper cards tend to be stronger in constructed so it's easy to make a lot of the rares and exciting legendary cards in the set on the cheaper side to give them a better shot in constructed all right did you ever consider heroic instead of Valiant? we didn't specifically consider heroic the vision design team did handoff Valiant more or less where it is right now we did try a couple of different areas in Valiant we had a question about whether you can open commander cards and playboosters asking for draft I believe the answer for this set is no looking at the breakdown and again after the show you can head to dailympg.com and the full collecting article will be up but just looking at the breakdown of playboosters Galador si si sa già perché era uscito l'articolo e in teoria dovrebbe uscire la settimana prossima dopo dopo diamo un'occhiata appena finisce qua di solito fanno sempre prima il set principale fino diciamo per sette giorni quindi fino a martedì o lunedì prossimo e poi in un giorno solitamente o in quattro giorni di fila fanno uscire tutte le liste commander ok sta dicendo essenzialmente che adesso ci sono le pedine che vengono create come copie secche che hanno il costo di mana quindi ma ha detto che non è un cambio che verrà riflesso su vecchie carte che creano pedine che sono palesemente carte esistenti tipo il meteorite di Roxanne in Thunder Junction quindi quelle pedine vecchie seppur rappresentano una carta che esiste non avranno il costo di mano dopo questo ci sarà un articolo di arena che avranno che avranno almeno alcuni di queste domande sto cercando di capire questo perché siamo quasi in tempo ah ecco questa ok hanno fatto anche loro la domanda se Phyrexian non è stata su Bloomberg ultima domanda quante calamity beasts ci sono e che colori sono 8 8 barra 10 ok ci sono le mitiche monocolori e poi altre rare in diverse combinazioni di colori perché ha detto che non è un ciclo esatto non ci sono tutte le combinazioni di colori possibili e quindi per quello che non si ricorda bene oltre al fatto che ricordiamo il buon Ian Duke adesso starà lavorando a un set che noi vediamo tra due anni e lui a Bloom Barrow ci ha lavorato due anni fa quindi ci può stare che non si ricordi tutto 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 ok la settimana prossima faranno una live con diciamo le art alternative essenzialmente including a list of where to find previews on what days and what websites or social media accounts or wherever it may be until then thank you Ian thank you Oliver and we will see you next week ok allora beh sono stati anche bravi sono 7 e un quarto adesso farei la classica rassegna degli articoli per vedere se ci siamo persi qualcosa o qualche informazione un po' più precisa sono già qua sono già pronto oh oh what's this le value booster basta le stavate togliendo le boost e non dovete aggiungerne delle altre cosa sono? non dimmi che sono ancora le team booster vi prego ok questa è una cosa che non hanno detto allora le value booster 7 carte presso i venditori selezionati potrai trovare un nuovo tipo di boost mentre le collector sono perfette per i fan che vogliono le carte più appariscenti le boost le value booster sono booste più piccole che contengono una manciata di 9 carte che giocano un modo conveniente e tu provai bloombarro ogni value booster contiene 3 comuni 2 non comuni una una di qualsiasi rarità quindi non c'è la rara non c'è la rara cioè non c'è la rara non c'è la rara sicura e una carta che può essere una terra team booster all over again ma loro perché perché vogliono venderci ste cose ma non vendetele sono già fallite due volte le team booster questa è la team booster ancora peggio cioè o me le tira o me le regalano se me le regalano vanno bene se costano zero vanno benissimo ma se devo spendere dei soldi per una cosa che non è anche la rara garantita stiamo scherzando no no infatti non l'hanno detto per un motivo secondo me durante la live che ci sono ste booste comunque comunque passiamo in inglese perché ovviamente gli articoli non sono tradotti in italiano e passiamo allora collectible le quattro cose importanti da sapere ma almeno le beyond booster c'hanno una o più rara questa qua è manco la rara cioè non c'hai la garanzia di avere una rara ma che stiamo scherzando perché devo spendere dei soldi per sette common and common no ma neanche per sogno allora quattro cose da sapere uno allora non sono canonici bla 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 ok 24 carte di questa tipologia abbiamo visto alcuni prince walker ma ci sono ancora alcune creature cutified e possiamo trovare 20 diverse carte quindi 24 ma 20 si trovano nelle buste e le altre 4 e queste sono quelle che abbiamo già visto in più ci sono 4 carte che si trovano esclusivamente nei mazzi commander ah queste carte prince walker saranno foil e faranno parte delle 99 di ogni mazzo quindi in ogni mazzo c'è una foil esclusiva planes walker con questo trattamento e quindi tamillo quella che abbiamo visto quella bant sarà nel mazzo bant commander all'interno della lista buono questa è una cosa molto bellina molto bellina un ottimo incentivo per comprare un mazzo commander ottimo incentivo ok questa è una cosa che non avevano detto o meglio avevano accennato ma non erano stati chiarissimi perfetto quindi 20 esclusive collector booster 4 esclusive mazzi commander una per mazzo quindi tamillo nel mazzo bant chatterfang quello che hanno fatto vedere allora a sto punto ah no perché c'era la versione commander quindi no chissà chi è il verde nero o comunque quello nel mazzo scoiato vabbè poi seconda cosa le japanese raised foil eccetera sono altre 20 trattamenti alternativi da vari artisti rinomati tu 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 si possono vabbè le versioni giapponesi si trovano solo nelle collector booster giapponesi e altrimenti si trova in inglese basta quindi anche questo è collector mentre queste dovrebbero essere anche su anche nelle normali le calamity beast ci sono 8 calamity beast 7 mitiche e una rara quindi in realtà anche qua confuta quello che ha detto prima Ian Duke che ha detto che c'erano le 5 mitiche di un colore e poi le altre erano rare invece non è vero anche perché igra è mitica queste qua si trovano sia nelle play booster che nelle collector ok e poi le full art seasonal va bene e anche queste le abbiamo visto dettagli booster fun le abbiamo ok le scorriamo sto andando veloce perché non voglio tediarvi le showcase di legno anche queste già viste le field notes già visto diciamo che finché c'è roba che abbiamo già visto ah eccolo qua ok quindi la three tree city ha la versione qual è il più alto di tutti sarà lo scoiattoli 100% e ok quindi ah ok questa è l'unica altra terra l'unica altra terra che non è una terra base ad avere le stagioni la città e ok ci sta molto bellina comunque molto bellina aspetta che le metto più le faccio vedere un po' ecco un po' meglio di te un po' più in grande quindi questa dovrebbe essere primavera questa estate credo autunno ve le faccio vedere così velocemente e inverno ok poi ah così ci guardiamo anche questa la season of weaving con queste zampotte quindi costo 6 anche qua possiamo scegliere fino a 5 zampette una zampetta pesca una carta due zampette scegli un artefatto una creatura che controlli crea una pedina che è una copia tre zampette fai tornare ogni permanente non terra non pedina in mano al suo proprietario qua c'è ral questo abbiamo fatto in tempo a vederlo anche questo è borderless va bene chatterfang le japanese questo ripete tutto quello che abbiamo già detto le extended le cose bruttissime che c'è solamente nelle cose ok play booster cont ah ok qua ci sono le le percentuali quindi primavera 40% estate 30% autunno 20% inverno 10% di probabilità nelle stagionali vabbè la composizione del play booster che fortunatamente almeno quella non cambia collector booster non ci penso nemmeno a leggere tutta questa roba e i mazzi commander però non fanno vedere i cosi c'è il bundle c'è lo starter kit di cui abbiamo già visto le due leggendarie il pre-release pack ah ok allora unique buy a box ah non è una ristampa è solamente cioè non è parte del set è una buy a box esclusiva flubs the fool 05 costo 3 temur quindi verde blu e rosso puoi giocare una terra addizionale in ciascuno dei tuoi turni e ogni volta giochi una terra o lanci una magia pesca una carta se non hai carta in mano altrimenti scarta una carta stranissimo molto strano è una carta veramente strana bello mi piace sa esattamente dove sta andando e sa esattamente come non arrivarci ed è esattamente quello che fa la carta più o meno bello bello ci sta ok poi vediamo dove trovare le cose che così vediamo i commander ok i commander vengono tutti rivelati il 18 di luglio giovedì prossimo così abbiamo la data esatta poi cosa manca penso basta la mastery di arena non mi interessa qua c'è l'articolo di mark crosswater che di solito ha uno spoiler quindi andiamo a pescarlo clement the war reward ok 3-3 costo 3 con cautela ogni qualvolta lui o un'altra creatura che controlli entra fai tornare fino a un'altra creatura bersaglio che controlli con mana value inferiore in mano al suo proprietario le rane che controlli hanno tappa aggiungi verde o blu spendi questa mano solo per lanciare una magia creatura forte carino molto carino e anche la versione questa fichissima bellissimo veramente bello questo showcase veramente bello e anche la versione anime così abbiamo tutto il pacchetto completo carino anche questo però in più abbiamo un'altra ranocchia dream due and trancer 3-4 costo 4 raggiungere quando entra tappa fino a una creatura bersaglio e metti tre segni di stordimento su di essa se controlli quella creatura peschi due carte ok strano però ok bla 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 qua fa vedere vari tipi di creatura l'umra l'abbiamo già visto e basta ultimo step vedere se sono usciti altri spoiler e noi andiamo su mtgpx ma non ah si c'è qualcosa allora fatemi vedere qualche carta che magari ci siamo persi durante il debutto allora quello abbiamo visto questo l'abbiamo visto finneas ral il mentore l'abbiamo visto ah questo qua non l'abbiamo fatto in tempo esilio una creatura non pedina se non è stato dato il dono fai tornare ok blink alla creatura con un senino più 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 all'inizio della prossima sottofase finale ok o è una removal o è un blink in base a se diamo o meno il dono po 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 artista questo non l'avevamo visto lo apro un po più in grande ok classe costo 2 quando lanci una magia non creatura puoi scartare una carta e pescare una carta a livello 2 le magie non creature che lanci costano 1 in meno e a livello 3 se una fonte di controlli sta per fare danno non da combattimento a un avversario un permanente di un avversario infligge 2 danni in più ok semplice semplice questa l'abbiamo letta questa l'abbiamo letta igra l'abbiamo letta beh ah questo qua no thunder trap trainer vediamo 1 2 costo 2 con offspring 4 quindi costa tanto fare un suo token quando questa creatura entra guarda le prime 4 carte del tuo grimorio puoi rivelare una non creatura non terra tra di esse aggiungerla alla mano metti le altre in fondo ok peschino forte impulso praticamente impulse su l'ontra poi brave king 2 una creatura avversario per il primo primo fino a fine del turno attiva solo come stregoneria basta ah no sono uscite vabbè queste le abbiamo già viste questo no mannaggia stanno uscendo cose thunder trap trainer ah no ok era quello di prima ah perché era la promo del bundle era la promo del bundle ok era la promo del bundle quindi ci siamo dovremmo esserci perlomeno c'è la mia lista commander ok per quanto mi riguarda dovremmo essere a pari con tutto guardiamo velocemente l'articolo delle meccaniche se c'è qualcosa di nuovo l'opossum l'abbiamo già visto kitnap l'abbiamo già visto questo l'abbiamo già visto osteomante l'abbiamo visto anche questo anche questo pure no ok siamo a bolla siamo decisamente a bolla mi tolgo le cuffie ok non fanno caldo però insomma mi danno impedimento e a questo punto io vi rimetto la chat qua per una volta la luce naturale cosa rarissima rarissima e allora ci siamo mi scusate vi riguardo in faccia adesso eccoci dai sette e mezza sono stati bravissimi sono stati anche bravi a non buttarci roba su roba però figo figo mi piace anche a livello meccanico a tante meccaniche a meccaniche che si incastrano tra di loro è molto molto interessante come come set apparentemente per ora almeno mi sembra diciamo un dubbio che ho è che effettivamente l'archetipo delle lontre sia forte perché quasi tutti gli altri archetipi sono basati sui permanenti e un sacco di carte che abbiamo visto sono basate sui permanenti quindi avere pedine avere creature avere carte al cimitero quindi cioè vuole giocare con le proprie cose con i propri permanenti le lontre invece no hanno istantanea stregoneria comunque hanno non creature e non ho visto così tante carte tanti istanto sorcery che magari in quel mazzo potrebbero starci vediamo a parte chiaramente le cose forti le season eccetera eccetera però vediamo vediamo anche perché appunto tipo il mazzo topi vuole avere cose che li bersaglia quindi anche lì il rosso probabilmente sarà un overlap tra le lontre e i topi per quanto riguarda gli istantanei molto probabilmente c'eranno alcuni istantanei che vorranno essere giocati in entrambi i mazzi vedremo vedremo appunto abbiamo visto molto poco siamo giusto all'inizio però l'unica cosa appunto che di tutti gli archetipi che hanno fatto vedere è quello che sono più curioso più diciamo quello che non mi ha convinto subito sulla carta è quello delle lontre vediamo vediamo come come lo lo svolgeranno quello tra insomma in questa settimana lo vedremo quindi io chiuderei così io vi lascio andare a mangiare e anche io vado a mangiare e vi ringrazio veramente tantissimo nonostante sia stato assente da qua per un bel po' di tempo vedervi sempre diciamo tifosi durante i debutti durante questi eventi mi fa super piacere e noi ci vediamo come ogni inizio di stagione di spoiler i miei sforzi verranno diciamo convogliati sulla pagina facebook quindi lì andrò a creare l'album e andrò a caricare la sera tendenzialmente tutti gli spoiler che vengono caricati durante la giornata vi ricordo sempre che qua sotto trovate sempre i link a tutti gli altri social compreso facebook quindi se già non mi seguite lì potete farlo e dopodiché ha finiti gli spoiler appena spoilereranno anche i mazzi commander inizierò a preparare le analisi dei nuovi quattro mazzi come appunto per ogni set ormai sto facendo sperando appunto che dia un aiuto che sia un focus su commander soprattutto su questi prodotti che sono pensati per prenderli e iniziare a giocarci quindi avere secondo me insomma un piccolo approfondimento spero sia utile detto ciò io vi vi ringrazio veramente tanto siete stati in tantissimi non ho letto non ho un counter da nessuna parte però ho visto tantissimi già adesso ma anche prima durante il debut trovate veramente in tantissimi omini qui sotto e sono contento grazie veramente grazie per il supporto ci ci vediamo presto ci vediamo sicuramente analisi commander quindi tra una settimanina vediamo in realtà mi è arrivato mi è arrivato giusto oggi l'ultimo secret layer quindi probabilmente faremo un unboxing così per per gradire prima delle analisi commander così magari non non mi abbandono il canale quindi vi farò sapere sicuramente ma il focus sarà sugli album sulla pagina facebook li trovate li sarò sicuramente più attivo durante la sera e già adesso adesso mangerò cenerò e dopo mi imbutto subito a creare l'album quindi ci vediamo lì ci vediamo lì e ci vediamo la prossima volta vi faccio sapere come sempre seguite i social se volete supportarmi mettete like commentate condividete assolutamente sia su i vari social anche su youtube chi sta guardando su youtube se vi piacciono questi contenuti anche semplicemente di condivisione dei debutti di tutto ciò che è la novità in diretta lasciate lasciate un like commentate il video guardate gli altri video spero insomma di fare del contenuto che possa interessarvi e se invece mi seguite qua su twitch e volete supportarmi in maniera un pochino più diretta potete fare la sub qua al canale soprattutto se avete amazon prime che avete una sub gratuita al mese se già non la usate potete sfruttarla in questo modo detto ciò di nuovo grazie mille vi auguro un proseguimento un buon proseguimento di serata ci vediamo dopo cena controllate mettete le notifiche mettete le notifiche solo alla mia pagina così vedete che arriva la notifica tanto sapete che sono delle carte di bloom barrow in questo periodo non non preoccupatevi benissimo quindi vi auguro di nuovo una buona cena una buona serata e a presto ciao a tutti